Martina Colombari, primo giorno di scuola, siamo a Norcia, un giorno particolare, un giorno speciale. Un anno dopo il terremoto c'è qualcosa di nuovo in questa città? Sì, è stato bello tornare perché eravamo già stati qua per l'inaugurazione, però la giornata di oggi, primo giorno di scuola, al sonno della campanella, è stato veramente emozionante per tutti. Siamo in questo complesso scolastico costruito da Fondazione Francesca Rava, Corriere della Sera, la 7, insieme a tanti volontari e tanti sostenitori che hanno donato per far sì che queste scuole potessero essere attive e pronte per questo primo giorno di scuola. Avranno accesso circa 600 bambini fra scuola materna, scuola elementare e scuola media e quindi è una bella soddisfazione perché abbiamo visto veramente dalle fondamenta i primi mattoni ai ragazzi, ai banchi di scuola quest'oggi. Quindi è bello vedere che gli italiani sono generosi e che Norcia come Cascia è un punto di riferimento per tutti noi italiani e quindi anche nei momenti di grande emergenza non ci siamo tirati indietro.